Siete qua? Oggi ragazzi vedremo insieme la terza maglia del Real Madrid per la stagione 22-23, quella appena iniziata, in versione fan, quella dedicata ai tifosi. Prima di lasciarvi, mi raccomando, ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro. Ci vediamo alla fine per la vestibilità, ciao! La grafica della terza maglia del Real Madrid 2022-23 sarà ispirata all'esterno dello stadio Nuovo Bernabeu. La maglia del caso del Real Madrid 22-23 combina una base nera con un colore giallo lime ad alta visibilità. Ufficialmente i colori sono black, pulse lime. Questi dettagli giallo lime sul bellissimo scollo AV e sulle spalle conferiscono al kit un aspetto moderno e accattivante. Il logo Adidas, lo sponsor Emirate Flight Better e lo stema del Real Madrid sono dello stesso tono. Un motivo grafico grigio-argento, ispirato all'esterno del Nuovo Bernabeu, completa il look moderno. Gli insert in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti-umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Cosa ne pensate? Nella mia classifica questa va in cima. Secondo me merita 5 stelle. Mi piace molto questo motivo, questa temperatura diciamo così che c'è nella trama e il colore che è stato scelto, questo color lime, verde, blu, veramente molto molto bello. Fa risaltare la maglia che è seppur semplice, secondo me però molto elegante. Qui in alto trovate il prezzo, su questo non aggiungo altro se non dire che è bassissimo, è molto conveniente. E peraltro vi ricordo che in descrizione potete trovare intanto tutte le informazioni per comprare la maglia e soprattutto un link per poter ottenere un buono da 3 dollari, quindi il costo che avete visto diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità, fatemi sapere quali altre maglie vorreste vedere in futuro e fatemi sapere cosa ne pensate di questa, se siete d'accordo o meno con la mia valutazione. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media, della versione FAN.